Guardate, il lavandino, questo è il mio beauty, gli asciugamagnini ci hanno regalato delle ciabatte, poi lo specchio, ciao, guardate la mia cover, poi la doccia, ah no è una vasca, la vasca barra doccia, è abnorme, cioè, il water e il bidet, e gli accappatoi, meno male che c'è il bidet. Poi c'è qua l'armadio, che non useremo perché stiamo poco, quindi c'è pure una coperta per se abbiamo freddo di notte. Io voglio vivere qua in sto hotel, poi qua è la camera, qua se vogliamo scrivere, disegnare non penso però va bene. E' una scrivania, perché si possono aprire i cassetti, c'è qualcosa? No. Ma chi è che sta così tanto tempo da avere la scrivania? La valigia di mia nonna, poi mia nonna, il tavolino che siamo usciti a fare un giro e ci hanno portato lo champagne, due bicchieri, io non bevo e neanche lei, quindi magari lo diamo a mia mamma. E poi qua la frutta, è un dei, come si chiamano nonna? Cosa? Di biscottini. No, sono dei cioccolatini, due bonbon. Ah, due bonbon. Il mio zaino, la sua borsa, non ci siamo ancora organizzati completamente. Poi un altro specchio abnorme, ciao, poi dei quadri, qua il tavolino, il divano, che sembra scomodo, ma in realtà è molto comodo, devo dire. Sembra duro, ma è abbastanza morbido. Poi qua, lì dove teniamo le scarpe e i calzini, la roba sporca, guardate, le ciabatte sono stracomode. Poi la mia roba, lei la tiene, nonna la tiene nella valigia, un telefono per la reception, un Pikachu, dell'acqua in omaggio, il caffè, il tè, no il caffè solo, dei snack se abbiamo fame, e qua c'è un altro mobile che non c'è niente, no, no, non c'è niente. Poi, c'è qua il frighetto, che se apriamo è pieno di roba. C'è Coca-Cola, Kikat, le due fante le abbiamo prese noi. Poi, vi faccio vedere, la televisione, cioè è più grande quanto un letto, se la mettessimo sul letto occuperebbe tutto il letto, e il letto è fantastico. Ah, è bellissimo rotolarsi nel letto quando sei in un hotel, che bello!